Un pizzico di rock, una bella spolverata di punk e di Generation Sex sono serviti. Dopo il grande successo ottenuto a Los Angeles, i cattivi ragazzi del punk rock britannico Billy Idol e Tony James dei Generation X e Steve Jones e Paul Koch dei Sex Pistol sono sbarcati a Lucca per emozionare e far ballare tutto il pubblico del Summer Festival. I quattro leoni, durante l'esibizione, si sono letteralmente mangiati il palco con la magica chitarra di Steve Jones e con la cover My Way con cui hanno concluso un concerto veramente esplosivo.